Ciao ragazzi, io sono Antonio e come ogni martedì nuovo video a tema Harry Potter. Oggi, ragazzi, parleremo di Horcrux, perché finalmente ho completato la mia collezione di tutti e sette pezzi che stavo cercando. E adesso ve li mostrerò tutti, faremo un po' un riepilogo e poi unboxeremo assieme l'ultimo pezzo che mi mancava. Commentate sotto con l'ultimo pezzo che non avevo, vediamo che è stato attento fino ad oggi. Ma prima di cominciare ragazzi, intanto vi ricordo che su Pampling, utilizzando il codice SETTEPOTTER, codice riutilizzabile tutte le volte che vorrete, potrete sempre avere il 15% di sconto su tutte le maglie, le felpe, qualsiasi cosa presente sul sito. Detto questo ragazzi, cominciamo con la nostra carrellata. Il primo Horcrux che è qui in bella vista è naturalmente Nagini. Nagini che ho recuperato in questa versione dentro la teca. Una versione molto molto bella, molto realistica, mi è sempre piaciuta. Naturalmente troverete tutte le recensioni dei singoli pezzi nelle schede o comunque nella playlist Harry Potter presente sul canale. Questa qui è una teca di Noble Collection, fa parte della prima serie di creature in teca. E naturalmente ragazzi, io ve la straconsiglio perché è davvero tanto tanto bella. E intanto questa qui la mettiamo qui da parte. E abbiamo il nostro primo Horcrux. Il secondo Horcrux che voglio mostrarvi non è questo, questo ve lo mostrerò per ultimo. Ma è questo qui. Si tratta dell'anello di Gaunt. Eccolo qui nella sua versione dentro la teca. Io inizialmente avevo acquistato quello lì di AliExpress, molti di voi lo hanno preso, che devo dire comunque è dignitoso, molto molto carino. Questo qui però decisamente più ben realizzato, molto molto più professionale come oggetto perché all'interno della pietra è anche presente il simbolo dei doni della morte. Mi hanno fatto notare che dentro la pietra non è presente la bacchetta. Troviamo solo il triangolo e la pietra, il cerchio. Io direi di concordare con la persona che me lo ha segnalato perché anche secondo me la linea verticale del taglio della pietra sta proprio a simboleggiare la bacchetta di Sambuco. Mi piace anche questo, molto carino, devo dire leggermente fuori mercato il prezzo perché davvero i prodotti Novo Collection sappiamo essere cari ma questo lo è tantissimo. Costa circa 55 euro e per un anellino del genere sono un po' tanti, lo ammetto. Perché facciamo conto che Nagini si riesce a prendere anche sotto i 30 euro, con 28-29 euro si riesce a portare a casa. Ma mettiamo adesso da parte il nostro anello e passiamo al prossimo prodotto che invece è questo qui. Questo mi è stato regalato da uno di voi che ancora ringrazio tantissimo. È il diario di Tom Riddle, sempre di Novo Collection. All'interno è totalmente bianco e troviamo qui la targhetta con Tom Marvolo Riddle, quindi la versione inglese del suo nome e non Orvoloson che è quella italiana che è stata adattata per rendere possibile il gioco di parole Io sono Lord Voldemort, che qui viene I am Lord Voldemort. Quindi ragazzi questo qui anche bel pezzo, molto rifinito, questi angolini sono in vero metallo e la copertina e insieme il pelle è un pezzo che assolutamente va preso. Questo lo mettiamo qui nel piedistallo, siamo già a quota 3 Horcrux, passiamo al quarto che è uno di quelli più costosi di Noble Collection, si tratta di questo qui, è la coppa di tasso rosso. Coppa di tasso rosso anche in questo caso molto cara per quello che in realtà è una coppa di metallo e questa qui si trova sempre intorno ai 50 euro. Secondo me 30 euro sarebbero stati già più che sufficienti, però devo ammettere che è davvero ben rifinita, ben incisa, è molto molto bella ed è esattamente la stessa di quella che vediamo nel film, quindi proprio un oggetto di scena a tutti gli effetti, è davvero identica. Quindi questa qui comunque nonostante il prezzo promossa. E non è finita ancora qui perché qui c'è il pezzo forse più costoso in assoluto che sono riuscito a prendere grazie anche al vostro aiuto, perché è già dichiarato sotto in infobox, l'ho detto altre volte, il canale fa parte del programma Affiliazione di Amazon. Cosa vuol dire? Che se volete sostenermi, se volete aiutare il canale a crescere, ad esempio io ho acquistato spesso luci, quelle che utilizzo per fare questi video, cavalletti, questo microfono, l'ho acquistato con le commissioni che Amazon mi paga quando arrivo ad una certa soglia. Perché acquistando tramite i miei link, quando voi cliccate su uno dei miei link di Amazon, qualsiasi cosa acquistate, Amazon mi riconosce una piccolissima percentuale, che però nel tempo cumulata mi favorisce gli acquisti, riesce a darmi una mano nei miei acquisti, quindi riesco a prendere le cose magari non spendendo tantissimo, riuscendo a portare molti contenuti sul canale. Quindi quando, se vi va, quando acquistate qualcosa, anche di non poteriano, qualsiasi cosa, se prima passate in uno dei miei video e cliccate sotto nei link di Amazon, mi date una mano e sostenete il canale. Quindi grazie a tutti quelli che lo fanno perché siete in tanti a farlo e vi ringrazio davvero tantissimo. Ma detto questo, ragazzi, ecco qui questo che è uno di quei prodotti che appunto mi avete aiutato inconsapevolmente forse ad acquistare, e si tratta della Tiara di Corvo Nero. Questa qui inizialmente costava molto molto di più, quando uscì non si trovava a meno di 250€, infatti non l'ho mai comprata, non mi era mai passato neanche per l'anticamera del cervello. Ma poi è piano piano scesa di prezzo e adesso si è stabilizzata attorno ai 125-129€, che comunque sono tanti soldi, ma in questo caso li trovo giustificati dalla qualità del prodotto, dalla confezione che è molto molto bella. E poi ragazzi, guardate quanto è bella la Tiara, è esattamente uguale a quella del film. Non ha nulla a che vedere con quella di Aliexpress, io feci anche un paragone nella video recensione, questa è decisamente molto molto più bella. È molto più dettagliata, abbiamo qui i pendenti, abbiamo le pietre realmente incastonate nel diodema, nella Tiara, e poi la testa è quella di un'aquila, mentre quella di Aliexpress ha la testa di un piccione, palesemente. Quindi questa qui è super consigliata, direi forse, nonostante il prezzo, il pezzo più bello da prendere di Noble Collection. Ma cosa manca ancora? Mancano due cose. Una è Harry, il settimo Horcrux, che ho deciso di rappresentare con la sua bacchetta. Questa è la bacchetta Noble Collection che ho preso su Mini Big World Collectibles. Ragazzi, anche in questo caso vi ricordo il codice serie 5, sempre valido, per avere 5€ di sconto su una spesa minima di 30€ su Mini Big World Collectibles. Ci sono tante tante belle cose su quel sito. E, ragazzi, eccola qui la bacchetta che io già avevo in realtà, ma avevo la versione in scala ridotta che avevo trovato in eticola con i pezzi degli scacchi. Questa qui è decisamente di un altro livello. Molto, molto più bella, molto più realistica, molto, molto più pesante. Avrei tanto voluto recuperare gli occhiali di Harry, che erano stati prodotti in passato da Noble Collection, ma sono praticamente introvabili. Qualora voi riusciste a beccarli da qualche parte, mi raccomando, ragazzi, contattatemi su Instagram, Antonio.seria, mi trovate facilmente, o su Facebook, su Messenger, dove vi pare. Sarò ben lieto di rispondervi. Mettiamo questa qui da parte e poi, ragazzi, manca l'ultimo, l'ultimo Horcrux che devo ancora upgradeare, che devo ancora migliorare, perché ho ancora la versione di Aliexpress. E si tratta di questo, del medaglione di Serpe Verde. Questo, devo dire, è molto, molto carino. Tra le cose prese su Aliexpress, forse quello meglio realizzato è davvero ben fatto. Esiste su EMP un medaglione ufficiale di Harry Potter, quindi sotto licenza, a circa 19€. Lo trovate cercando nella sezione Harry Potter di EMP Italia. E io ero molto, molto tentato di prendere quello, ma ad un certo punto ho beccato una buona offerta su Amazon del medaglione, quello di Noble Collection. E per meno di 40€, forse 39€, sono riuscito a portarmelo a casa. Quindi, ragazzi, adesso faremo un paragone e vedremo quanto differisce da quello di Aliexpress. Ecco qui il pacchetto che ho qui da parte da un sacco di tempo, ragazzi. Mi è arrivato ben prima di Natale, i primi di Dicembre, e non l'ho ancora aperto. Quindi non vedo l'ora, finalmente, di andarlo ad inserire nella collezione. Ma ho dimenticato il mio bisturi e quindi devo andare a prenderlo. Eccolo qui, bisturi a portata di mano e andiamo subito a tagliare lo scotch. Allora, uno e due. Sempre ben imballati, non è nella confezione di Amazon, semplicemente perché assieme a questo erano arrivati anche regali di Natale e altre cose. Quindi ho dovuto tirarlo fuori dalla confezione, dalla scatola. Ma eccolo qui, finalmente ci siamo. Abbiamo questo qui da togliere e vediamo un po'. Ok, togliamo questa e andiamo a tagliare lo scotch. Ok, i sigilli sono stati tagliati, quindi ragazzi, adesso andiamo a scoprire il contenuto. Ok, ecco qui, ci siamo. Ragazzi, ecco il contenuto come si presenta. Abbiamo la solita teca, molto molto simile a quella lì della giratempo. Forse credo proprio la stessa, probabilmente. Ragazzi, qui in alto abbiamo il nostro medaglione che spero di riuscire ad estrarre. Ok, ci siamo. Eccolo qui. Tiriamo fuori anche la teca, così ci possiamo liberare della scatola. Ok, è stata una lotta, ma sono riuscito a tirarla fuori. Eccola qui. No, è diversa. Non è esattamente quella della giratempo. Quella è marrone, questa è nera. E poi, però, abbiamo lo stesso tipo di design all'interno col vano dietro lo specchietto per nascondere la catenella. E due gancetti qui per appendere il medaglione. Comunque, molto molto bella. Sempre belle queste teche che danno comunque un valore in più al prodotto. Ma, bando alle ciance, tiriamolo finalmente fuori. La catenella, già a vista, è diversa. È più satinata. Mentre questa qui è più lucida. Anche se non mi dispiace, è lucida. E adesso vediamo il medaglione. Eccolo qui. Beh, ragazzi, direi che è decisamente fatto meglio. Molto molto più bello. La dimensione, vi dirò, è esattamente quella. Il gancio superiore è molto molto simile. È più grossolano questo qui di Aliexpress, ma molto molto simile. L'apertura è al contrario, è speculare. Perché, mettendolo nello stesso senso, qui il serpente rimane sul retro, mentre qui è sul fronte. Quindi i vetrini sono stati montati probabilmente al contrario su questo di Noble Collection, su questo di Aliexpress, scusate. O magari è stato fatto di proposito. Il retro è differente. Su quello di Aliexpress troviamo tre serpenti, mentre su quello di Noble Collection troviamo delle parole incise e al centro questa sorta di bolla. Davanti al serpente, ragazzi, non stiamo neanche a parlarne. È decisamente su un altro livello, quello di Noble Collection, che è realizzato con dei cristalli verdi, mentre qui è una biscia dipinta di verde. Quindi molto molto bene questo qui di Noble Collection. E vediamo l'interno che si chiude con un gancetto. Qui abbiamo all'interno una sorta di pannetto verde. Non è presente il biglietto rub, perché esistono ben due versioni di questo medaglione. Questa è una cosa molto molto importante, state attenti quando lo acquistate, perché Noble Collection ne vende due tipi diversi. Questo qui, che è quello ufficiale, quello diciamo originale di Voldemort, col serpente inciso sopra con i cristalli. E esiste anche una versione senza serpente, o comunque se il serpente c'è non viene mostrato nelle foto promozionali di Noble Collection. E all'interno però trovate il bigliettino piegato di Rub. Perché? Perché quello è il medaglione che viene trovato dentro la grotta da Silente Harry. Il medaglione falso, che è quello che Regulus ha sostituito appunto dentro la bacinella. Quella là protetta dagli inferi, per ricordare, per capirci bene. Quindi ragazzi, sono due cose diverse. State attenti, qualora voi voleste quello col bigliettino, prendete quello. Altrimenti questo è il vero Horcrux, tra virgolette. Molto molto bello ragazzi, davvero bellissimo. Molto molto simile, come vi dicevo, la dimensione è praticamente uguale. Il peso leggermente più leggero, quello di Noble Collection, ma questione davvero di poco. E ragazzi, di per sé, all'interno poi vabbè, cambia questo qui, molto più grezzo, non c'è nulla. Mentre questo qui, come vi dicevo, dentro ha il pannetto, quindi molto molto più carino. Devo dire che comunque questo per 2€ vale sempre la pena. Ma questo qui finalmente va ad arricchire e completare la mia collezione di Horcrux. E a questo punto ragazzi, non mi resta che andarlo a posizionare all'interno della teca. Ecco qui, e questo è il risultato finale. Abbiamo il nostro medaglione ben protetto dentro la sua teca di legno. Ragazzi, finalmente dopo 2 anni, la missione Horcrux è completata. Quindi abbiamo tutti e 7 i nostri Horcrux che adesso potrò andare finalmente a posizionare per bene nella mia collezione e poi potervi dimostrare nella loro interezza. Ragazzi, naturalmente quest'estate, prima della pausa estiva, farò di nuovo il video aggiornato della mia collezione, visto che me lo chiedete spesso e volentieri. Ragazzi, io ho una montagna di nuovi prodotti da mostrarvi. Ho accumulato tantissima roba durante le vacanze di Natale, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale coloro non foste ancora iscritti. Condividete il canale con i vostri amici, è molto molto importante aiutarmi a far crescere il canale. Un mega grazie a tutti coloro che cliccheranno nei link di Amazon per fare i propri acquisti, perché aiuteranno il canale a crescere sempre di più. E ragazzi, naturalmente, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate e qual è il vostro Horcrux preferito. Sono davvero molto molto curioso. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Vi do appuntamento a presto con tantissime altre novità e non mi resta che salutarvi. Ciao!